Questa sera. Bene, grazie. Passaggi Festival nella giornata di ieri è entrato nel vivo della manifestazione. Rita Dallachiesa, Francesco Delzio, Gerardo Greco, Paolo Del Debbio e il sottosegretario di Stato Guido Guidesi sono stati gli ospiti della terza giornata. Ieri è stata anche la giornata però dell'inaugurazione ufficiale sul grande palco in piazza 20 Settembre che ha ospitato gli organizzatori del festival ed i rappresentanti delle istituzioni, comune, regione, marche che supportano la manifestazione. E con l'occasione il suo presidente Cesare Carnaroli ha subito messo sul piatto l'auspicio che da loro venga sempre più un supporto economico maggiore che da oggi è ben poca cosa se confrontato con altre manifestazioni di livello nazionale tipo Pordenone dove il budget è esattamente dieci volte tanto quello di passaggi. Tutto questo per evitare, come dice Carnaroli, la crisi del settimo anno. Una manifestazione che nel corso di questi anni è cresciuta in modo esponenziale e quest'anno siamo arrivati ad una dimensione tanto ampia, tanto grande che ormai abbiamo una partecipazione del pubblico, uno zoccolo duro che ci segue dovunque. Un parterre di poltroncine completamente occupate e gente in piedi hanno voluto presenziare per ascoltare le parole e l'intervista sul palco per la rassegna grandi autori della conduttrice tv Rita Dallachiesa che ha portato sul palco il suo libro autobiografico dall'emblematico titolo Mi salvo da sola. Una vita di amore e di forza raccontata a partire dalla morte del padre, il generale dei carabinieri Callo Alberto Dallachiesa, assassinato dalla mafia il 3 settembre del 1982. Si parla anche di un pezzo della storia d'Italia che io ho conosciuto, ho avuto la fortuna o la sfortuna anche di conoscere e quindi è un pezzo della mia vita ma è un pezzo della vita di tante altre persone anche. A conversare con lei è sul palco il noto giornalista di Rete 4 Paolo Del Debbio, conduttore della trasmissione Dritto e Rovescio. Ed è Rita Dallachiesa come la conosciamo, cioè racconta se stessa con tutte le sue cadute, il fatto che ce l'ha fatta appunto da sola come dice il libro, con momenti critici, ha vissuto momenti insomma la morte del padre e tante altre cose che insomma fanno un libro ricco. Ecco, molto di lettura piacevolissima, capitoletti brevi, veramente di lettura piacevole.